ragazzi e vi volevo dire una cosa domani alle 3 uscirà un nuovo video sul canale come faccio il pastone iscrivetevi al mio canale lasciate un like e vi metto la foto del mio adesso vi metto la foto del mio alla fine di di questo brevissimissimo video che dura neanche un secondo a momenti e vi metto il link il link la foto di come lo faccio e iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale di mia sorella il mio piccolo allevamento il mio piccolo il mio canale è il mio piccolo allevamento 63 vincenzo.0 il canale di mia sorella è giù e com'è? e iscrivetevi a giù di tramillo che vi esce capito ragazzi, ciao